Bullizziamo la gente. Noi abbiamo bullizzato! Aspettami! Eh, devo prendere il medico. Io mi suicido. Sono vivo, sono un delfino. Ma che sono in posizione? In tutta la mappa in tutto questo abbiamo bullizzato, abbiamo rapito solo 6 persone. Google è quanti flopper? Un medico è là? Il flopper è là? Google è quanti flopper? Mi porti i medico, tu porti i flopper. Perché io non posso portare i medico, io ho delle bende. Non lascio le bende via dei flopper. È tipo un medico intero o due flopper. Aiuto. Mi piace proprio questo. Sono un medico intero o due flopper. Però un medico che ci vengono seguiti. Aiuto! Che facciamo? Noi. Di due. S***a... Mi guardo. Mi guardo. Si chiama con il rampino. S***a. Che sarà tutta raga? Sono appena a click di game. L'abbiamo a menu di forza di S***a Giulio. Io non lo sa che sto registrando raga. Perché aveva detto che non poteva registrare, ma io registro. e come se regista e poi raga lasciate like iscrivetevi per te raga e adesso raga cominciamo io vado da lui oh Giulio mi ha ruotato un altro che non me ne era accorto non posso bagnare? è buono eh non posso ho quattro poste ma per gente dove sta c'è tutto la c'è tutto la dove eravamo eccoli lì ma allora ci sono no tu non l'hai visto ho fatto un replay zio io adesso sto registrando ragazzi c'è chi nata epica attento c'è l'altro no bro tu non l'hai visto si l'ho visto ragazzi Giulio adesso lo sai che sto registrando comunque quando mi sentivi parlare stavo parlando zio adesso tu metti a vedere quando pubblico sto video vada subito a vedere vedi che ho sparato un colpo l'ho anghiappato tipo ho sparato un colpo sopra la costruzione proprio quando gli si è assaltato oggi ho chichinato è vero infatti che cosa ci pensa? mamma mia hai fatto un muro oh io lo faccio ah l'ho saputo sotto infatti ho chichinato 3000 volte ahi ahi ma prendi dai tu le ho un e one in se l'altro non lo so let's do un po' wow un po' wow ragazzi per vedere cecchinata epica che manco power e ninja messi insieme con la fortuna in tutto il mondo ci riescono almeno 5 per la cecchinata non chiedo di più questa è il mini moda qua ti do sta costruzione qua tu spama 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 a un certo punto è a mattare uno perchè è un hit con la marocchino no è un com'io di spamare 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 con lei poi c'è spamare ma si dai 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 ecco spara no con l'er con l'er no con l'er no con l'er no con l'er è un hit 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 impossibile non te cosa era curato perchè io quando è un HP va buo raga per questa cecchinata etica non me ne frega che il video durato 5 minuti 7 minuti va raga volevo fare un'altra partita ma dopo questa cecchinata voglio giù lo dire ci divertiamo un po' noi due ma questa cecchinata è la cecchinata più epica che abbiamo mai fatti tutta la dalle salute a bo